salve a tutti in italia purtroppo c'è il progetto la torre di babele come voi avete potuto vedere dall'immagine fotografica si parte dalla plebe si arriva dalle persone un po più importanti e si va a finire dalle persone militari poi si va a finire dai ricchi miliardari e poi si va a finire alle tecnologie sia tecnologie militari nucleari satellitari la torre di babele in che cosa consiste la torre di babele consiste far diventare sempre più ricchi i monarchici coloro che gestiscono le alte tecnologie sedeli di spia per il controllo della mente a distanza attraverso la manipolazione celebrale che inducono persone innocenti a pensare a ragionare in un modo un po particolare ieri sera 20 agosto 2013 hanno sperimentato su di me dopo che io avevo effettuato una scoperta di alcune società aerospaziali e società che progettano software tecnologie militari che stanno vendendo alle forze armate armi ad energie dirette sia satellitari che terrestri e che avevo intuito dopo una telefonata effettuata una ragazza che una vittima del controllo neurale che c'era un legame tra i torturatori sperimentatori e i collaudatori del controllo della mente a distanza che viene fatto su di noi cavi umane e queste società e hanno incominciato a mettere la frequenza dell'ipnosi totale la frequenza della del blocco totale celebrale e le frequenze del sonnambulismo e mi hanno pilotato come se mi volevano far suicidare facendomi gettare sotto un autobus o una macchina sulle strade attraverso il blocco totale celebrale pensate che non mi ricordo niente dalle dieci e mezza fino a mezzanotte e mezza e poi mi hanno risvegliato dentro casa e hanno detto vediamo gli effetti collaterali vediamo i traumi psicologici e vediamo le frequenze della mappatura attraverso il sistema del controllo cerebrale che poi queste frequenze verranno vendute a società private per centinaia di milioni di euro e queste società le rimetteranno sulle armi a energia diretta sia satellitare che terrestre come state vedendo c'è la triconometria satellitare del puntamento per la mappatura diretta all'interno dell'ipotalamo che traccia le frequenze dirette all'interno del cervello attraverso il controllo neurale satellitare attraverso la mappatura indotta di patologie derivanti le gravi blocchi e simulazioni di frequenze dirette attraverso il canale delle alte dei tecnologie e delle postazioni satellitari che hanno 200 frequenze e hanno 200 patologie immesse nel sistema queste frequenze possono essere cambiate sia da frequenze standard sia da frequenze sperimentali che vengono cambiate di tanto in tanto per fare dei test delle sperimentazioni e collaudi su cavi umane che poi dovrebbero essere queste cavie cavie terminali da quello che loro dicevano che una volta effettuati gli esperimenti dovevano essere eliminati perché testimoni di queste sperimentazioni di armi a energia diretta e di frequenze di manipolazione cerebrali ma mi sta avvenendo un dubbio ultimamente che questi esperimenti vengano fatti anche sulle forze dell'ordine tipo polizia, carabinieri, finanza, guardie carcerali, esercito, marina e aeronautica mi è venuto un dubbio per le anomale situazioni che succedono in Italia relative a determinate disgrazie che avvengono in determinati luoghi però è una mia supposizione questa state vedendo la famigerata frequenza cubica come funziona la frequenza cubica? questi sperimentatori creano una sorta di analisi di digitalizzazione del perimetrale delle stanze creando una frequenza a pressione che deve stabilizzare i parametri delle frequenze di disturbo relative al cambiamento climatico di ogni singola stanza, di ogni singolo ambiente e di ogni singolo luogo ben delineato che viene praticamente analizzato attraverso una frequenza parallela e che creano la stabilizzazione dei parametri delle frequenze di analisi per ogni singolo ambiente faccio un esempio, se c'è un ambiente con il condizionatore non possono mica mettere le frequenze satellitari all'interno di una stanza del sole che surriscalda totalmente tutti i metalli e tutti quanti gli oggetti all'interno della stanza e allora devono attenuare attraverso un'analisi effettuata con uno scanner a scansione con una telecamera termica e con una telecamera a infrarossi le determinate frequenze e le determinate temperature relative alla stanza stessa e i determinati rumori e quindi creano una frequenza di stabilizzazione chiamata frequenza cubica quando dentro casa le vittime del controllo onorale sentono un caldo fortissimo perché gli sperimentatori prendono il satellite spia e lasciano metà appuntamento all'interno di casa all'interno della stanza o all'interno delle stanze o all'interno del luogo dove voi stazionate e l'altra metà all'esterno dell'appartamento, all'esterno della villa o all'esterno della palazzina e poi che cosa fanno? coordinano le frequenze, le temperature, le pressioni esterne dell'appartamento e dentro casa avete tutte le frequenze dei raggi ultravioletti, infrarossi, microonde eccetera 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 del sole che vengono riportati esattamente all'interno della stanza e quindi la stanza diventa una sorta di forno a microonde che surriscalda l'ambiente in modo sproporzionato e quindi quando tenete le finestre chiuse le pressioni aumentano perché loro devono creare la stessa pressione la stessa frequenza della temperatura le stesse frequenze di luce e i stessi disturbi del sole all'interno della stanza dove voi stazionate e che vi deve creare sudorazione surriscaldamento del corpo e surriscaldamento del cervello e questa è la frequenza cubica la frequenza cubica è la frequenza di analisi ambientale con un sistema digitalizzazione che ricrea le ambienti attraverso un'analisi perimetrale e che riproduce le temperature e tutto ciò che è l'ambiente circostante per poi aumentare i disturbi all'interno dell'ambiente stesso questi disturbi voglio ricordare che si amplificano attraverso i trasformatori dei frigoriferi i trasformatori all'interno di casa e le amplificazioni dal satellite su tutti i lampioni del circondariato dell'appartamento della palazzina o della villa che voi avete perché creano una sorta di amplificazione di frequenza di luce che crea una frequenza alternata di disturbo e di destabilizzazione delle frequenze fisiologiche e celebrali il progetto mantide religiosa il progetto mantide religiosa è un progetto che segue il progetto dei campi di sterminio nazisti in poche parole i potenti in Italia o i potenti che collaudano questi sistemi di tecnologie e che effettuano manipolazioni cerebrali e che usano cavie umane anche ai bambini anche persone handicappate anche persone con gravi disturbi fisici e psicologici tossicodipendenti che diventano manciurancandida attraverso il controllo della mente a distanza e amplificazioni delle frequenze della dipendenza simulata all'interno del cervello e sul corpo tutte queste persone devono essere come i nazisti dicevano la razza ariana invece nel campo di concentramento Italia ci deve stare la razza perfettamente pilotabile con il sistema del controllo satellitare neurale tutte le persone che non sono idonee o che hanno effetti collaterali o che hanno dei gravi disturbi o che non possono essere pilotate con il sistema del controllo celebrale dovrebbero essere messe nei campi di concentramento nei campi di sterminio ho dedotto come potrebbero effettuare questi anomali avvenimenti o anomali morie inspiegabili nel territorio nazionale italiano questa è solo una teoria una supposizione se muoiono gli uccelli nell'aria e muoiono i pesci nell'acqua la tecnologia è in grado di creare una defibrillazione fisiologica una defibrillazione cardiaca una defibrillazione celebrale o possono rimettere la mappatura celebrale di una persona che ha manie suicide all'interno del cervello di una persona totalmente sana o possono fare come hanno fatto ieri sera con me ieri sera 20 agosto 2013 prima mi hanno ipnotizzato alle ore 9 hanno messo la narcolessia i blocchi totali della memoria temporanea e poi hanno messo il sonnambulismo io stavo facendo alle 9 e mezza intorno alle 9 e mezza una telefonata a una vittima e gli stavo spiegando che cosa avevo scoperto che c'erano delle società a Roma e in Italia che costruiscono armi ad energie dirette e che l'hanno dichiarato proprio su dei siti potete andare a vedere sul mio blog vittime del controllo anorale e che specificano che stanno vendendo alle forze armate italiane le tecnologie ad armi ad energia diretta terrestri portatili che possono essere date alle forze dell'ordine alle forze armate e dicono che queste tecnologie possono essere anche emesse anche sui satelliti spia come una semplice tecnologia diretta a frequenze indotte allora il progetto mantide che cosa farebbe? la mantide addesca il maschio e poi gli mangia il cervello il progetto mantide che loro stanno creando è la stessa cosa tutte le persone che non possono essere pilotate tutte le persone che si accorgono di essere pilotate tutte le persone che rilevano le alte tecnologie o rilevano i disturbi fisici e psicologici o rilevano la pressione cerebrale o rilevano il surriscaldamento o le scariche elettriche all'interno del cervello relative all'elettroencefalografo satellitare tutte le persone che rilevano le gravi patologie fisiche e psicologiche tutte le persone che non si dimenticano delle torture degli esperimenti e delle attestazioni del collaudo delle alte tecnologie nel cervello e dell'utilizzo dell'armia di energie dirette che vengono collaudate per anni e anni e anni sulle persone che gli possono creare tumori leucemie infarti eschemie cerebrali appannamento della vista perdita della vista gravi patologie renali gravi patologie respiratorie gravi patologie vascolari gravi patologie lavorative gravi patologie sentimentali gravi patologie affettive attraverso i familiari perché ovviamente un familiare che vede un proprio parente un proprio figlio una propria moglie un proprio marito che impazziscono dentro casa e dicono venga attaccato dai satelliti venga attaccato dai satelliti le persone vengono manipolate a loro volta per far credere che il parente è diventato pazzo ma in realtà il parente non è pazzo è attaccato veramente con armi e energie dirette e viene attaccato veramente con sistemi satellitari e frequenze dirette all'interno della cervella all'interno del corpo una soluzione che io ho trovato andare per un breve periodo o per un lungo periodo all'estero ma in un altro continente e consiglio Stati Uniti d'America o Messico e consiglio Giappone o tutto ciò che è al di fuori della portata della geostazionalità dei sistemi satellitari europei nel territorio europeo in modo che l'allontanamento da questi campi ad energia diretta a questi armi a frequenze dirette e satellitari sul corpo delle persone ricreerebbero la stabilizzazione delle frequenze fisiologiche e le persone ritornerebbero quasi normali a 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